Siamo a Parigi, binario 49 in trasferta e mio fratello si vede? Siamo sulla strada per incontrare finalmente Salgado. Finalmente, finalmente perché dopo un anno e mezzo di mail, telefonate, videochiamate, riusciamo ad incontrarci di persona, pelle a pelle e saluteremo Salgado per tutte le persone che ci hanno chiesto di salutarlo, porteremo questo libro di questo amico che ha voluto l'autografo, libro abbastanza pesante, ma che cosa non si fa per l'amicizia, che cosa non si fa per la bellezza, saluteremo Salgado come dicevo per tutte le persone che ci hanno chiesto di farlo e basta, siamo ovviamente emozionati, dite qualcosa anche voi!